Il 23 novembre 2012, presso l'Iveco Fiat Industrial Village, in strada 7223 a Torino, si è svolta la manifestazione Open Week, evento di informazione e cultura tecnica del serramento, organizzato dal consorzio Legno Legno e da CNA Produzione. Un'occasione per le aziende dell'intera filiera, per conoscersi e creare network, ma soprattutto per aggiornarsi in merito ai temi tecnici innovativi e ai nuovi approcci al mercato, in una location assolutamente suggestiva. Numerose le aziende partecipanti, provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. Noi ci occupiamo prevalentemente di solte per serramenti, sostanzialmente gestiamo tutte le aziende che realizzano serramenti in serramenti in PVC, alluminio e legno. Copriamo tutte le attività che vanno dalla preventivazione del serramento fino alla procedura di produzione, contro la produzione e anche la parte che riguarda l'eventuale gestione degli agenti e punti di vendita. Quanto è importante avere anche un unico interlocutore, come nel vostro caso, per quanto riguarda un servizio software di questo tipo? Beh, è importante che a questo punto riusciamo a farci carico di tutte le esigenze che può avere un cliente, quindi riusciamo a trovargli la soluzione ottimale per lui, in qualsiasi ambito si trovi, sia la parte produttiva, che la parte controllo, che la parte vendita.